ma prima di entrare nel vivo di questo argomento ti ringraziamo per aver scelto di vedere questo video e ti ricordiamo di iscriverti a questo canale ma di attivare anche tutte le notifiche tramite la campanellina mettendo un like ed un commento sotto a questo video grazie a tutti 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 grazie a tutti